Mi piacerebbe dirvi che per una volta è andato tutto bene ma così non è Stavo registrando l'episodio 9 quando in tutto il quartiere è saltata la corrente E ho perso ovviamente la mia registrazione La cosa buffa è che stavo per terminare il video, avevo fatto un sacco di progressi L'ho stato in miniera, avevo praticamente ultimato lo spawner di scheletri per farmarli a più non posso E puff, tutto è svanito nel niente Ma io so che mi volete bene perché per questo arriviamo a 30.000 mi piace Per sopperire la mia tristezza Mi raccomando commentate e iscrivetevi alla campanellina Io vi auguro una buona visione Alexa spegni seconda luce Molto meglio Bene ragazzi quest'epmi e bentornati nel nono appuntamento della serie principale Ho un déjà vu, eh si avevo già fatto tutto questo Praticamente nell'episodio che non vedrete mai perché il file è corrotto Avevo fatto una marea di cose Ero sceso in miniera alla ricerca dei diamanti Ne ho trovati 6 Vi faccio vedere che zona assurda della mappa c'è qua giù in fondo Perché è qualcosa di allucinante Oltre a beh aver rischiato di morire un paio di volte Mi sono reso conto che il dungeon che abbiamo trovato sotto la nostra base È collegato ad un ulteriore dungeon Probabilmente è il proseguio dello stesso dungeon Ma è veramente gigantesco raga È enorme, è infinito Qui vabbè ovviamente ho costruito tutto quanto per evitare che la lava mi sommergesse Guardate, infinito Che vi ho detto? È gigantesco Non ho trovato un altro spawner purtroppo Ma sti cavoli Ho anche scoperto che qua c'è un collegamento Che porta direttamente all'oceano Vediamo se lo ritrovo Dovrebbe essere tipo qua dietro C'è un canyon enorme Però sommerso dall'acqua Quindi purtroppo non potremmo visitarlo Era qui, vero? Esatto Guardate qua Guardate che figata No, 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 no No, 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 no Mi sta tenendo giù Ah no, no, va via, via, via Step Hai evitato di morire nello scorso episodio Non farlo adesso per piacere Fatto sta che di tutto ciò che avevo fatto Purtroppo potrete vedere solamente i risultati È un peo proprio rimorso Sto rirosicando un botto Perché era un episodio molto figo Ma va bene Non importa Ho trovato sei diamanti L'obiettivo era di trovarne 25 Quando riflettendo Essendomi reso conto che abbiamo 31 livelli a disposizione Ho detto Ma perché non fare prima la stanza degli incantesimi E poi successivamente andare alla ricerca di diamanti Sarebbe la strada migliore Perché nel caso in cui dovessimo trovare un piccone Con fortuna 1, 2 o 3 Tutto sarebbe leggermente velocizzato Qua dietro c'è lo spawner di scheletri Vi faccio vedere Io avevo sistemato tutto quanto Avevo fatto una roba praticamente perfetta Tutti i collegamenti con l'acqua Ci avevo impiegato 45 minuti a far sta roba E niente Adesso lo renderemo ufficialmente operativo Eccoci appunto Via Esci step Veloce In fretta Prima che ti ammazzino gli scheletri Teoricamente Gli scheletri dovrebbero Cadere qua Qua davanti ai miei occhi Adesso non sta accadendo questa cosa Ma voi fate finta di niente Dovevo solo ultimare la zona con le chest Funziona Gli scheletri purtroppo non prendono danno Forse questa è una pecca Dovrei scendere ancora più giù secondo voi Così li mettiamo last hit Gli do un colpo secco e muoiono immediatamente Forse è la decisione migliore Anche se Quando riuscirò a portare qua un villager Lo spawner diventerà a tutti gli effetti Molto più figo e produttivo Perché scendono più volentieri Visto che secondo me Quella che vi ho detto prima È un'ottima idea Ovvero quella di realizzare In qualche modo Prima il tavolo degli incantesimi Per portarsi a casa Più incantesimi possibili Con i livelli che abbiamo Nel caso in cui dovessimo trovare Il piccone con fortuna A quel punto Partirebbe la spedizione per i diamanti Ciao pecore Tutto bene? Bravissime Guardate il grano raga Che meraviglia Le zucche ancora nulla eh Però il grano è tutto completamente Nato e cresciuto Qua ci sono le cani da zucco Da recuperare Lo facciamo subito Ah per tutti coloro Che hanno chiesto del tridente ragazzi Il tridente non me l'ha droppato Anzi ho anche rischiato di morirci Per fortuna siamo riusciti Ad arginare il danno A farlo fuori Ma non mi ha droppato niente Ci accontentiamo di quello che abbiamo ovviamente Io direi di Recuperare il grano Far nascere un po' di muccozze Farle diventare grandi Dopodiché Mazzolarle bene bene Per creare la leather Non perdiamo tempo Non tergiversiamo Tiè Il picconazzo Lo prendiamo E per adesso lo mettiamo da parte Ora l'obiettivo È portarsi a casa Il tavolo degli incantesimi Abbiamo le cani da zucchero Ce ne servono Teoricamente Tre Per ogni pezzo di carta Vai così Le piazzi in questo modo Ci piazzi il libriccino Reguveri l'ossidiana Prendi questo Metti questo qua Questo qua Tutta l'ossidiana sotto Incredibile Tavolo degli incantesimi Già realizzato In un batter d'occhio Bravissimo Stepney Complimenti Non sarà sufficiente Ovviamente solo questo Aspettate Quanti ne vengono fuori da qui Vabbè ovviamente 15 15 non sono sufficienti Mai nella vita Dovrò farne Molti Ma molti Ma molti di più Tanti di più L'ossidiana Rimettila a posto Per piacere Potrebbe servire più avanti Se facendo così Vedete che spacco Anche dei blocchettini Ancora non cresciuti Sti cavoli Tanto abbiamo così Tanta roba Piantata a disposizione Oh Ma chi sono Una mia titrebbia Questo è il bello Di avere una piantagione Così grande Che puoi andare avanti A diritto in questo modo Non sto capendo neanche io Cosa sta accadendo Ma teoricamente sta funzionando Vero Ma chi sono Guarda l'altro Che il trattore in tangenziale Qui andiamo a comandare Basta Una marea di grano Ragazzi Abbiamo fatto davvero jackpot Stavolta Guarda che roba Guarda che lavori Sono contento Che abbia raggiunto In un batter d'occhio Di nuovo il livello 30 E passa Anche perché Serviranno Tutti questi livelli Non ne avanzerà neanche uno Potete starne tranquilli L'unico problema È che si può incantare Solo dal livello 30 In poi No Che ci fa Adesso lo zombie Insieme alle mie mucche A due zombie Saranno i protettori Delle mucche Anche se dopo Dovrò buttarmi qua dentro E massacrare A più non posso Con la mia spada E diamante Abbiamo finito Di bridare le mucche Spero vivamente No 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 Oh No Oh mio dio Oh mio Oh mio dio No 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 Che cosa ho combinato Ma non ne va una Per il verso giusto Ma mi spiegate io Che cosa vi ho fatto Di male Ok Non dovevo mettere Il secchio d'acqua Siamo pienamente d'accordo Anche perché le mucche Si sono cagate addosso Con gli zombie l'intorno Però che cavolo Mi aspettavo Una fuoriuscita del genere Mucche alla riscossa Quelle piccole possiamo Possiamo anche aspettare Che crescano un pochino E' tornato tutto sotto controllo Bene o male Ci sono ancora una marea di mucche Oppela Scusatemi Solo 19 pezzettini di leather E' un disastro 19 sono veramente pochi Questa zona non è per niente sotto controllo Mi ricordo la mia base Il mio villaggio Nella scorsa stagione Era tutto bello C'erano le mura Che impedivano ai mob Di entrare Era tutto sotto controllo Ogni tanto si Nasceva uno scheletro Uno zombie Ma non una roba del genere Comunque Visto che l'ultima volta Non abbiamo controllato Per cucinare il glass Quei blocchi avevamo visto Un solo cosino Fatto dal kelp Quindi un blocco di kelp Cucina 20 cose Non male Ti ho sentito arrivare Disgraziato Che non sei altro Io ti faccio fuori 34 libri Non mi ricordo Quanti ne servono Di preciso Ma 34 Mi sa che sono un po' pochini Ne possiamo fare 11 in totale 11 non è affatto male Per adesso Ma ne servono 3 6 12 18 Beh allora non siamo Molto lontani Dal nostro obiettivo In realtà Aspettate che vi faccio Fuori bene bene Tanto non servite Così tante Una volta che avrò fatto Il tavolo degli incantesimi Non mi servirete più Giuro Mi lascerò in pace Ve lo prometto Se metto una scala Salgono anche loro Teoricamente no Non c'è più nessuno Ci sono solo le mucche piccole Ma è perfetto raga Mi avanzano due pescettini di ladder Che bello 19 Raga secondo voi Sono sufficienti? Perché la risposta Secondo me È sì Adesso andiamo a costruire Il nostro piccolo Angolino degli incantesimi Io direi di muoversi Verso la nostra piattaforma Così piano piano Iniziamo a creare qualcosa Che possa esserci Effettivamente utile Guardate quanti delfini ci sono Adesso che non mi servono Portacci vostro Io direi Che per esempio Potremmo fare Il tavolo degli incantesimi Da questo lato di qua Mentre poi Salendo da questo lato di qua Potremmo fare Il nostro portale Prendiamo le misure Non deve essere simmetrico Abbiamo detto l'ultima volta Però vogliamo Che sia carino Di quanto saliamo Di quanti blocchi Lo vogliamo alto Qua ci piazziamo La traptor La nostra base Prenderà Tutti gli spunti Da questa piattaforma Quindi da una parte Avremo la casetta Da una parte Avremo il magazzino Da una parte Avremo il portale del nether A meno che non lo facciamo All'interno della montagna Da questo lato Abbiamo intanto degli incantesimi Ma vai a chiudere Qua sono tre blocchi finale E teoricamente Questo è lo spazio Di cui abbiamo bisogno Non so se mi bastano Teoricamente sì Non ho portato i lapislazzoli Non posso sapere Se sono sufficienti Lo scopriremo presto Allora scendiamo un attimo Una cosa molto semplice Come vedete Cerchiamo di prendere I lapislazzoli E portiamo con noi Un paio di libriccini Uno lapislazzoli Cosa No non esiste Questa cosa Cioè volete dirmi Che ho fatto tutto questo casino Per provare ad incantare Un qualcosina E non abbiamo I lapislazzoli Per farlo Mi ricordavo di averli trovati Ce li abbiamo I lapislazzoli Ragazzi tranquilli Vediamo un po' Se sono nati gli scheletri Così ne approfitto Li ammazzo Dai dai veloce Piccolo giovane Padawan Non c'è nessuno Ma perché il mio spawner Non funziona Ma ho fatto tutto quello Che doveva essere fatto Dentro non c'è neanche Una torcia raga È buio pesto Giuro Non è buio ragù dentro È buio pesto Ma non funziona Facciamo finta di niente Se dovessimo trovare In questo episodio O comunque nel frangente Tra un episodio e l'altro Che ovviamente registrerei Il piccone con fortuna Il prossimo potrebbe essere Direttamente lo scavo Alla ricerca dei 25 diamanti Faremo l'armatura Potremo andare nel nether Potremo far partire La spedizione per l'avamposto Dei pillagers Maledetti Se si azzardano a tornare Raga io gli faccio fuori C'è un creeper Che si sta avvicinando Piazza Torce Devo chiudere quella grotta Devo chiudere tutti i collegamenti Delle grotte Veloce che è già notte Ma chi me lo fa fare Di stare a giro con la notte Riposiamoci con calma Così evitiamo Ogni singolo problema Guarda che brutta che è Certo che avere tutto in vista Non è esteticamente La cosa più bella Però se per esempio Rendiamo il format Di questa serie Le cupole di vetro Non ci vuole niente A rendere tutto di vetro Qua intorno A me potrebbe venire fuori Anche una roba molto carina Vediamo un po' Io piazzo questo dentro E ci mettiamo il piccone Livello 30 si può fare Efficienza 4 Un piccone con efficienza È sicuramente molto buono Bain of Anthropods 4 Ce l'azzardiamo Mettiamo Bain of Anthropods Che potrebbe darci anche altro Come potenziamento Oppure cerchiamo direttamente Il potenziamento qua Sul Vai Bene Fail Fail Fortuna 1 Adesso Dai Ma mi prendi in giro Purtroppo L'incantesimo One hit Non è andato a buon fine Però state pur certi Che il piccone Efficienza 4 Ci permetterà di scavare Come dei pazzi Nel prossimo episodio Perché io nel frangente Cercherò in tutti i modi Di farmare un libretto Che abbia almeno Fortuna 1 Ragazzi Questo nono episodio Termina qua Il prossimo è il decimo Andiamo in doppia cifra Io spero che vi sia piaciuto Mi dispiace Non aver registrato L'episodio del mob spawner Cioè E averlo perso Purtroppo Spolliciate Commentate Iscrivetevi E attivate la campanellina Per ricevere gli aggiornamenti Di tutti i video E soprattutto le notifiche Sul cellulare E ci vediamo nei prossimi giorni In un prossimo video Grazie per il supporto Qua sempre Bye Ah manca sempre meno Conquisteremo il mondo Siamo vicini Ciao